Buonasera a tutti. Abbiamo circa una ventina di minuti e tante domande, quindi cominciamo subito. Abbiamo circa 20 minuti e molti domande, quindi possiamo iniziare immediatamente. La prima domanda da Emanuele88F1. Stefano, a Silverstone vedremo una Ferrari competitiva e cosa ne pensate di queste nuove gomme? Ma è chiaro che l'obiettivo deve essere quello, per forza. Il nostro obiettivo deve essere non solo a Silverstone, ma nei prossimi Gran Premi, di cercare di ridurre lo svantaggio che ci vede in questo momento secondi in classifica dietro Vettel, dietro Red Bull. Quindi al di là di Silverstone abbiamo tre impegni prima della pausa estiva, dove dobbiamo cercare di fare il massimo per raggiungere l'obiettivo che ho detto prima. Sulle gomme che avremo da gestire, io credo che il fattore fondamentale sarà quello di vedere quali saranno le condizioni atmosferiche, le temperature, le condizioni della pista, che a Silverstone sappiamo essere sempre un po' particolari. E quindi al di là dei commenti che valgono per quello che valgono, dovremo gestire al meglio quello che abbiamo. Quindi questo è il nostro obiettivo, la squadra è concentrata, serena, è chiaro che dobbiamo fare il risultato, questo lo sappiamo, ma diciamo che tutti quanti noi siamo abituati a lavorare sotto questo tipo di pressione. A question in English from Vitas Cech, do you think the car will work as well, as Felipe said, on a fast corner track like Silverstone? Well, I hope that this will happen. For sure we have seen in the past that in the last couple of years we were quite competitive in Silverstone, but as always we need to keep the feet on the ground, make sure that we maximise what we have. I'm sure that, you know, if you are able to have a good qualifying, the race in normal condition should be ok. Fernando 4658 ti chiede, come possiamo migliorare in qualifica? Caro Fernando 4658 più 5 riporto di 2, io credo che sia una bella domanda, perché a parte gli scherzi, è il punto su cui stiamo cercando di fare il massimo, perché sappiamo essere il nostro trono d'Achille. I nostri ingegneri hanno tante idee, però al di là di tutto bisogna cercare di tramutarle in pratica, e quindi sappiamo che dobbiamo assolutamente fare quello che tu hai detto, perché partire sempre indietro, ed essere la macchina o le macchine che hanno fino a questo punto della stagione fatto il maggior numero di sorpassi, purtroppo non ci porta nulla, perché partire da dietro è sempre difficile, e quindi è chiaro che adesso dobbiamo assolutamente cercare di partire nelle prime due file, perché partire dalla terza alla quarta fila diventa sempre, gara dopo gara, un'impresa sempre più difficile, quindi questo è sicuramente un obiettivo che non siamo riusciti a centrare fino adesso, lo stimolo sul fronte ingegneristico è sempre molto alto, quindi mi aspetto di vedere delle risposte effettive dai nostri ingegneri. Un'altra domanda in inglese, da F200455. Hello Stefano, I want to ask about in-season testing. What do you think about in-season testing like MotoGP on Mondays? Is it a good way to do testing and getting least cost for the teams? Well, I think that as you know Ferrari has been always pushing for testing during the season, because we believe it is the best way that we can handle the situation to improve the car and also for the supporters and the fans to follow effectively what we are doing during the season. I think that also from the commercial point of view we can have some benefit. But with regard to the specific question of testing on Monday, I believe that in our situation the logistics related to the Grand Prix on Monday after the races will be quite complex because there are a lot of things to disassemble. But for sure the objective that we want to achieve next year is to make sure that we will stay during the season in four tracks and start the testing on Tuesday because we will need one day when also on our side we can work on the car. Because as you can imagine it is different from bike to the cars to make sure that we are ready immediately after the race. So I believe that the compromise that we have found to start testing on Tuesday is the right thing for us and for the Formula One. Una domanda che ci giunge dai nostri follower di Facebook e Twitter. Cavallino, A5 Cavallino. Che ricordi hai della gara di Silverstone del 2011? Beh, sicuramente dei bei ricordi in quanto essendo stata una stagione parecchio difficile il fatto di aver vinto la gara con Fernando è stato sicuramente un evento straordinario anche perché ricorreva un evento per noi devo dire straordinario ovvero essere a Silverstone in occasione del sessantesimo della prima vittoria di Gonzales che tra l'altro purtroppo è scomparso nei giorni scorsi e quindi ancora una volta Silverstone per la nostra squadra rappresenta un gran premio particolare e quindi ripeto, in quella stagione è sicuramente molto difficile per noi aver raggiunto la vittoria con una prestazione devo dire maiuscola è stato un segno del destino una domenica che rimarrà nella storia della Formula Uno proprio per la ricorrenza particolare che abbiamo vissuto tutti quanti in quell'occasione. Another question from our Twitter follower What does a young engineer need to work in Formula One? Well I think that the first thing that is important is the passion for the sport the passion for Ferrari because at the end of the day everyone that is coming here and work for us has to realise what is Ferrari in term of values, in term of really family approach in term of dedication and this is the fundamental basis of course on top of this passion you need to be someone that wants to learn someone that wants to work in a team with a team spirit approach and someone that, you know, of course has F1 in its blood because this is part of the main characteristic for everyone that has to come to Ferrari to work. Dario G78 mi saluta e ti chiede come procedono gli sviluppi dell'auto in vista delle prossime gare altra domanda se riusciremo quest'anno a fare qualche full position ma io spero che le cose che stiamo portando avanti come sviluppo in Galleria del Vento abbia un'applicazione diretta per migliorare la prestazione delle macchine non solo a Silverstone ma anche nei Gran Premi successivi perché l'obiettivo di vincere il campionato lo puoi centrare solamente se sei il migliore di tutti quanti e poi è chiaro che l'obiettivo non solo che è quello di vincere ma è quello anche di fare delle full position perché partendo dalla prima posizione abbiamo visto come diventa tutto più facile in questo momento non siamo ancora in questa situazione ma ripeto stiamo cercando di fare di tutto per arrivare davvero a partire in full position perché con la prestazione che abbiamo in questo momento con la macchina se si riesce a partire là insomma le cose diventano molto molto più semplici Emanuele 88F1 ci chiede quanto sarà importante la strategia Silverstone viste le ultime gare e il gran numero di sorpassi di Fernando e Felipe? Ma tutto dipenderà un po' da quale saranno le condizioni in cui gareggeremo ovviamente tutto dipenderà da quante soste dovremmo fare perché in questo momento si parla di numeri teorici ma dovremmo vedere come si comporteranno questi pneumatici e quindi sicuramente in un contesto dove più pit stop potrebbero accadere è chiaro che la strategia assumerà un ruolo molto molto importante Benny Thorne dove i nostri competitori sono è sempre difficile noi in questo momento stiamo lavorando cercando di raggiungere i target che ci stavamo a noi ma non sappiamo quali i target che gli altri manufattori sono giusti quindi è sempre molto molto difficile credo io credo che l'anno prossimo abbiamo tantissime cose per sicurare che stanno lavorando che è davvero un'incredibile task che l'ingegneria non solo l'ingegneria ma anche l'evehicle dinamica hanno lavorato tremendamente insieme perché è qualcosa che è il miglioramento in regolazione in quanto mi ricordo nella storia di Formula 1 che afferterà anche i stiletti che afferterà la forma che abbiamo togliere la raccoglione e sarà importante non solo per noi ma anche per le persone che comprendono tutto che è relato a questo change di regolazione anche per riguardare l'entrimento della raccoglione in itself perché sarà totalmente different e su questo Kevin Taylor ha chiesto di quanto l'emphasia stai mettendo sull'auto e l'unica prossima e l'unica del momento stiamo lavorando in parallelo con i due progetti so far abbiamo ancora un gruppo di persone che stanno lavorando sul sviluppo del 2013 car ma molto pronto credo che bisogna di cambiare più e più risorse in il nuovo progetto perché come ho detto i tassi sono davvero grandi per la lista ELE ti chiede qual è il tuo gran premio preferito dunque per motivi logistici direi Monza per diciamo dal punto di vista di quello che è il contesto generale direi Canada e Australia hanno davvero delle caratteristiche molto simili e particolari c'è un'atmosfera devo dire straordinaria quindi direi che questi sono i gran premio un po' così che hanno che rivestono per me delle cose un po' particolari mi ricordano scusate delle cose un po' particolari sicuramente sono i posti che mi piace più essere Alexis 177 ti chiede come giuditi le prestazioni di Fernando e Felipe finora ma io credo che i nostri piloti stanno facendo una buona stagione io valuto sempre la loro performance insieme a quella della squadra quindi il giudizio è sicuramente positivo e sui punti su cui come squadra dobbiamo migliorare come sempre le cose non si dicono all'esterno ma si affrontano insieme per cercare ripeto di lavorare da squadra in una logica di miglioramento continuo a tutti i livelli Matteo Sciumi ti dice caro Stefano sono uno studente del master alla Cocconi mi piacerebbe sapere se uno studente qualificato con un percorso di studi economico può realizzare il sogno di lavorare in Ferrari grazie per le emozioni che ci regali ma io ti devo rispondere con i fatti io non sono certamente un tecnico provengo anch'io da un background come il tuo non ho fatto economia e commercio a Milano ma l'ho fatto a Bologna e quindi se ce l'ho fatta io non vedo perché tu non possa farcela chico 5678 ciao Stefano una domanda in generale qual è il GP che ricordi meglio il positivo da quando dirigi la gestione sportiva e qual è stato il weekend più brutto della tua carriera in Ferrari allora parto dalla seconda domanda il weekend di brutti ne abbiamo vissuti tanti però io devo dire che da un punto di vista proprio della della drammaticità devo dire il più brutto sotto questo aspetto è stato quello di Felipe nel 2009 quando ci fu l'incidente in quanto le cose grazie al cielo sono andate bene ma in quei momenti poteva essere davvero un momento molto brutto per Felipe e per la nostra squadra per quanto riguarda il weekend più bello devo dire fino all'ultima curva Brasile 2008 dopo si è tramontato in una domenica un pochettino particolare perché abbiamo vinto il mondiale costruttore abbiamo perso per Felipe il mondiale piloti e direi che per ricordarne un altro bello probabilmente probabilmente per un motivo particolare mio ancora Silverson 2011 Bosch Mobile after the accident at Le Mans that resulted in the death of Alan Simonson how can F1 and Ferrari work to improve safety? I think that Formula 1 together with Ferrari and not only with Ferrari but with the International Federation have done big step toward the safety and I would say that on that we don't have to be complicit we need to keep working and I can guarantee to you that there are commissions every month that are working you know in respect of the safety of the car now there are a couple of things that are on the table for example the open cockpit the contact between rear wheels and the front wheels and some other subject in order to improve the safety on Formula 1 and on that I would say that even if you know the situation has to improve no doubt but the level of safety in Formula 1 is really the very high the standard of safety is really incredible if you compare to other sports but the secret is there to keep the pressure even if the situation has improved dramatically I think that it's important that the relationship is professional and of course the more that you have relationship with them you become friends even if you have to remember the game of roles that you have to have when you have this kind of responsibility can you repeat the question I would say that it will be different because it will be a different revs it will be a different because we have turbo so we need to have a different ear to listen to another fantastic noise because as always when there is a change we always remember what was before and don't forget when we had the V12 then V10 V8 now we will have a V6 with turbo it will be another music for another I would say fantastic engine for FOMO1 VMR94 come giudichi le prestazioni della Ferrari a Le Mans questo scorso weekend ma è chiaro che non siamo soddisfatti non siamo stati soddisfatti della nostra prestazione io credo che sotto questo profilo dopo degli anni dove abbiamo sempre vinto e dominato un effetto importante sia stato anche quello del balance of performance a cui le nostre macchine sono state soggette è chiaro che questo non deve essere una scusa perché dobbiamo migliorare le nostre macchine però sicuramente il fatto di dover compensare le prestazioni di macchine diverse con caratteristiche tecniche diverse quest'anno ha avuto un peso molto forte e anche negativo nei confronti delle nostre vetture ferrarista ti chiede una gara che non dimenticherai mai ci devo pensare quindi questo non è un bel segno no a parte gli scherzi una gara che non dimenticherò mai non te la posso dire Francesco Mancini 7902 chiede qual è la tua Ferrari preferita ma la mia Ferrari preferita da un punto di vista della performance o della linea credo forse sia no non credo è sicuramente l'F12 ma visto che come dicono ho famiglia e due bimbi la FF è sicuramente una grande macchina anche se per muovermi uso una macchina del gruppo Fiat e per concludere perché dobbiamo lasciarti ti chiediamo un'ultima domanda da un follower di Twitter Frank8819 se lei avesse un team proprio quale pilota della Formula 1 attuale escluso quelli Ferrari prenderebbe il suo team Kimi Raikone grazie a tutti per averci seguito thank you very much for following us we will be back with another video chat in Germany ritorneremo con un altro video chat dalla Germania con il direttore sportivo Massimo Liola vi saluto forza Ferrari e a presto bye bye ciao a tutti